Condivido con voi una delle più antiche, famose e popolari ricette marocchini. Si tratta di tagine con carne d'agnello e le pruni. Un piatto dal sapore agrodolce che rimane un gusto incredibilmente nella memoria. Va presentato nelle speciali feste per gli ospiti o negli giorni quotidiani. In un bicchiere metto un pizzico di foglie secche di zafferano. Aggiungo 130 ml circa di acqua fredda dal rubinetto. Mescolo con un cucchiaino e lascio attivare da parte. Se non avete questo tipo di zafferano potete usare una bustina di questa confezione. Ne contiene tre bustini. Voi usate solo una. La troverete facilmente nei supermercati. Se no potete usare anche un cubetto di questa confezione sempre al gusto di zafferano. I fogliolini secchi di zafferano e i cubetti al gusto di zafferano. Io li compro dai negozi arabi che vendono la roba araba. In una ciotola capiente passo a preparare la marinatura per la carne. Come spezzi metto un cucchiaino di sali, la punta del cucchiaino di pepe, zenzero, curcuma, coriandolo. Metto tre pezzi di badiana, sette pezzi di cardamomo, un cucchiaino di burro invicchiato sotto il sale. Troverete il video già pubblicato di come si prepara, se lo volete vedere. Tre spicchi d'aglio grattugiati. Aggiungo l'acqua con zafferano preparato in precedenza e sarà sufficiente come brodo per cuocere la carne. Mescolo il tutto, aggiungo un bastoncino di cannella, sei, sette pezzi di gomma arabica. La maggior parte delle spezie che io ho usato li potete trovare nei negozi arabi della vostra città. Come carne ho scelto il coscio d'agnello tagliato a pezzi abbastanza grossi o un chilo e quattrocento grammi. Metto nella marinatura. Preferibile indossare dei guanti per non sporcare le mani con il colore dello zafferano, la curcuma e gli altri spezie. Faccio dei massaggi alla carne, copro e lascio riposare per due o tre ore in modo tale che la carne prendi il gusto e il sapore delle spezie. Dopo aver sbucciato e lavato la cipolla, io ho usato sette cipolle piccoli, voi potete usare tre cipolle grandi. Taglio a stricci, nel tagine metto 50 ml circa di olio di oliva, metto la cipolla tagliata in precedenza e passo a sistemare la carne. Aggiungo il restante della marinatura, copro il tagine. Porto a cuocere, potete usare lo spargifiamma sotto il vostro tagine per evitare che si rompi. Lascio cuocere a fuoco alto per 15 minuti circa, il tempo di soffreggere la carne. Dopo 15 minuti giro la carne sui trambi lati. Chiudo il tagine e passo a tagliare altri 8 o 9 cipolle piccoli. Voi potete usare 3 o 4 cipolle grandi. Li aggiungo nel tagine, abbasso la fiamma, la lascio bassa, copro e lascio cuocere per 2 ore. In una ciotola metto 150 g di pruni precotti, li troverete facilmente nei supermercati. Aggiungo l'acqua fredda dal robinetto, lavo i pruni, li metto a scolare in un colino per togliere l'acqua in eccesso. Con la punta del coltello, passo a controllare la cottura della carne. Una volta cotta, aggiungo le pruni in questo modo. Aggiungo la punta del cucchiaio di cannella in polveri e un cucchiaio di mieli naturali. Chiudo il tagine e lascio cuocere per 30 minuti, sempre a fuoco basso. In una padella metto 2 cucchiai di semi di sesamo e porto a tostare a fuoco medio per 2 o 3 minuti, mescolando di continuo per evitare che si bruci. Le metto in una tazzina e lascio da parte. Nella stessa padella metto 2 cucchiai di olio vegetale e metto 150 grammi di mandorle sgucciate e porto a friggere a fuoco medio per 2 o 3 minuti, sempre mescolando di continuo per evitare che si bruci. Le tolgo dalla fiamma ancora leggermente dorati perché le mandorle in olio caldo mantengono il calore e diventano dorati mentre si freddano. Metto in un piattino foderato con carta da cucina per assorbire l'olio in eccesso. Dopo due ore e mezza di cottura e il mio tagin è pronto, spengo la fiamma e passo a finire la decorazione prima di servire a tavola. Metto i semi di sesamo sopra le prugne in questo modo e poi le mandorle fritti. Questo tagin da provare assolutamente tra il salato e la dolcezza del miele è un gusto incredibilmente piacevole. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima.